arte di cichi ciao bambini quale frutto vi dà energia ed è uno dei più deliziosi? la banana disegniamo tre banane diamogli una bella linea definita e ora un po' di magia iniziamo a colorare un giallo acceso per le banane lascia un po' di spazio in ogni banana lo riempiremo presto sapevi che le scimmie amano mangiare le banane? bene! bello e ordinato ora non sarebbe bellissimo usare un giallo più chiaro per gli spazi che abbiamo lasciato? mescola entrambi i colori abbiamo quasi finito sembra bellissimo abbiamo finito con le banane usiamo un verde oliva per il gambo delle banane coloriamo anche la punta delle banane con un verde oliva wow! mi sta facendo venire fame fatto! le nostre banane sono pronte iscriviti per vedere altri video arte di chichi grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!